Si è svolto nei giorni scorsi l'incontro tra le organizzazioni sindacali della CGL Cisle Will Territoriali e Pierluigi Bruschi, responsabile dell'Emporio della Solidarietà San Giorgio di Città di Castello. L'incontro è stato incentrato sull'attività dell'Emporio in questi quattro anni, nato su iniziativa della Caritas e dei Comuni del Comprensorio, al quale, come organizzazioni sindacali, CGL Cisle Will del Territorio hanno, sin dall'inizio dato il sostegno, anche promuovendo iniziative nei luoghi di lavoro. L'Emporio della Solidarietà ha contribuito a soddisfare in maniera dignitosa i bisogni primari di molte persone che si trovano in difficoltà per ridurre gli effetti della crisi, che ha prodotto forti disagi in numerose famiglie, coinvolgendo anche i minori. In questi quattro anni sono state attivate circa 900 prestazioni rivolte verso piccoli nuclei familiari, uno, due componenti, tre, cinque componenti, sei e più componenti, che hanno riguardato circa 300 famiglie italiane e 500 famiglie straniere. CGL Cisle Will hanno sottolineato la positività del modello attuato e l'azione svolta verso i soggetti più deboli e momentaneamente in difficoltà per evitare che prevalga lo scoraggiamento e che si aggravino le forme di amarginazione sociale, dalle quali, se non ci sono dei sostegni, è sempre più difficile uscirne. I sindacati hanno riconfermato il proprio impegno per intraprendere nei luoghi di lavoro e nelle sedi sindacali azioni di sostegno anche diretto e di sensibilizzazione per un dovere di solidarietà, di coesione e di protezione del tessuto sociale. È necessario che l'azione intrapresa dalla Caritas in un rapporto positivo e da valorizzare con i comuni dell'Alto Tevere venga sostenuta da tutta la comunità alto tiberina per dare speranza alle persone di riprendersi e creare le condizioni per emanciparsi ed anche per contribuire a rafforzare il proprio sistema economico e produttivo.